DJ Hits Allora, Miss Italia 2008, una tua opinione su cosa ci sarà? Beh sicuramente Carlo farà una bellissima trasmissione, sarà una bellissima trasmissione ho visto in Toscana quella che ha vinto, bellissima ragazza, sarà una grande festa e speriamo che possa nascere una nuova Lucia Bosè Mazza, senti invece un augurio a quella che sarà Miss Italia, a cosa gli auguri? Miss Italia ormai è un'istituzione, non devo augurargli completamente niente perché non ha bisogno dei miei auguri e fare un in bocca al lupo E l'anno prossimo magari Maggioglio che presenta Miss Italia? No, quello mai, posso presentare Miss Mediterranea io Wow, grazie mille